Sperito, non mi pensi, non lo possiamo prendere. La novità è tutto, non mi lascio. Troppo, troppo. Troppo, troppo. Anche qua dentro. Perché passa così all'interno. Sì, vieni. Ah sì, vieni. Alla giorno, all'interno, vogliono le inizie. Perché normalmente mi fa fare un'altra persona che fa. Sì, siamo comandati, non c'è la roba. Sì, siamo comandati. Ha concesso il ritorno a casa di questi beni. Quindi simbolicamente, chiaro, chiaro, chiaro. Sono davanti, questo lè. Non sia mai. Facciamo questa bella figura. Lasciamo cadere. È molto interessante perché per la prima volta è scritta tutta la storia di Cotugno e soprattutto questo grandissimo personaggio che è lui. Anche lo stele, il marmorio che sorreggeva con la storia voluta dai suoi miei, attenzione. Quindi ci è sembrato tanto il recupero di un pezzo di madre. Ma c'è dietro di Verdarelli fu votato prima presidente dell'ordine nella Gran Salle. perché il tempo... Perché il tempo... Il tempo... Bellissimo. Grazie. 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 Questo, grazie a tutti. Grazie. Grazie.